Sono iniziate le operazioni a contrasto dell'occupazione abusiva nel territorio di Castellabate. Nella notte di lunedì è entrata in azione la polizia municipale, coordinata dal comandante Emanuela D'Amato, in sinergia con la Capitaneria di Porto, guidata dal logotenente Sandro Rizzo. In gente, il quantitativo di attrezzature balneari abbandonate sulle spiagge oltre l'orario del tramonto, sono stati dunque sequestrati infatti 180 ombrelloni. L'operazione rientra nell'ambito di un'ampia attività di controllo del territorio d'opera della polizia locale. La giunta municipale di Castellabate, con il progetto Estate Sicura, ha disposto il rafforzamento della presenza degli agenti attraverso la giunta di turni nelle ore serali e notturne.